Le leggi le conosco e le uso. Vi assicuro che un figlio di contadini come sono io non poteva arrivare ad avere questa scienza nella testa perché queste cose in parte me le ha insegnate il mio padre spirituale ma in parte buona sono il frutto della maturazione, dell'applicazione di queste leggi che trasformano radicalmente il tuo corpo, la tua anima, il tuo spirito. Oggi l'uomo non ha la più pallida idea della bellezza, della potenza e della meraviglia che c'è in ciascuno di voi. Siamo divinità e ci hanno resi mendicanti, barboni e questuanti. Il popolo pretende da una condizione di ignoranza di trovare la verità. Quindi i parametri che il popolo usa senza prima fare un opportuno investimento nella propria vita per trovare la verità, le domande che il popolo pone sono sempre sbagliate, quindi ingannare il popolo è facilissimo. Per questo proliferano una quantità di pseudodivulgatori, di pseudo interpreti delle scritture, di pseudo conoscenti dell'antica sumerologia, perché il popolo non ha nessuna base di discernimento in termini di conoscenza. Oggi stamattina ho risposto alla mail di un ragazzo che mi dà dell'ingenuo perché mi faccio ingannare da questi extraterrestri e lui è il seguace di uno pseudo ricercatore italiano che divulga che gli alieni si succhiano l'anima degli esseri umani e noi siamo un allevamento loro. E io gli ho risposto a sto ragazzo, ma tu solo perché ti sei innamorato delle sciocchezze di un pseudo ricercatore, vieni a contestare me che sono oltre 30 anni che giro il mondo, che ho visto cose che tu non ti puoi mai immaginare, ma con quale presunzione e stupidità tu che hai solo visto cose su internet o al massimo avrai letto un libro contesti un ricercatore quando quello là non è mai andato da nessuna parte? Sei stupido? Gli ho detto ma questo non è un problema e non te lo dico per offenderti, però sei ingenuo, tu sei l'alunno imbecille che va all'università pagando caro il corso di studi e polemizza col professore che gli dovrebbe insegnare. È un controsenso. Io sono un ricercatore, io ci sono stato nelle basi militari, ho visto le astronavi, ho visto e vissuto cose inimmaginabili, ma ci ho investito tutta la mia vita, non puoi tu contestarmi solo perché ti sei appassionato del signor X o del signor Y così perché te piace. Quindi questo discorso che mi fai tu Roberto, logicissimo dal tuo punto di vista, ma il popolo non sa nulla del mondo dello spirito. Per questo Cristo dice dai loro frutti vedrete chi sono. Ora Lucifero ha dato, ha ricevuto da Dio un grande potere. Quindi Lucifero ha autorità nel momento in cui i veggenti e i contattisti iniziano a corrompersi, di travestirsi da Madonna, da Gesù, da extraterrestre e timena per il naso. Quindi non ci può essere una Madonna in contraddizione con se stessa, sono due Madonne diverse. Una Madonna Fatima dice perirete tutti se non vi ravvedete. Ora nella testa bacata dei religiosi comuni, dei fedeli ignoranti, pensano che convertirsi vuol dire cambiare religione. Ma come può la Madonna apparire ai cristiani e dirgli di cambiare religione? Sarebbe blasfema. La Madonna non appare agli islamici, tantomeno appare agli cattolici e gli dice ravvedetevi, cioè rivedete il vostro stile di vita perché ciò che vi condanna non sono i credo religiosi, sono le vostre azioni anticristiche. Il cristiano vive una vita anticristica, è egoista, è bugiardo, è mentitore, è adultero anche nel talamo nuziale. Quindi la Madonna che appare ai corrotti veggenti di meggiudori è il demonio e quella ti conferma di stare nella staticità, di fare una preghiera che non serve a niente, che ipocrita è di adorare un Dio blasfemo, che non punisce. Quindi non è la Madonna, è Satana. Così come il Cristo dei cattolici che benedice le armi, che stago i ricchi, che fa le messe a D'Alema piuttosto che Andreotti e ai mafiosi, quello è Lucifero, non è Gesù. Non è cambiato nulla. È lo stesso, oggi Javè lo chiamiamo Cristo, duemila anni fa, prima lo chiamavano Javè, ma è sempre Satana. Il Dio Javè che manda gli israeliti a uccidere e a sterminare è Satana. Non ci sono altri Dei, c'è il Dio dello Spirito, Cristo è il Dio della materia, Javè, Geova. Ma noi se non sappiamo nulla di vera teologia, le domande che poniamo, i quesiti che ci poniamo, sono avulsi dall'insegnamento di Cristo che dice dai frutti. Quindi se c'è una Madonna che dà terribili profezie a Garabandal, alla Salet, a Meggiugori stessa, a Fatima e poi di colpo cambia tutto e dice tutto a posto, basta che state col prete, è ovvio che è un'altra entità. Non è ciò che vedi, è ciò che fai è importante. Quindi se prima la Madonna ti dice ravvedetevi, se no perirete tutti e poi la Madonna ti dice tutto a posto, basta che pregate, è ovvio che sono due entità diverse, una vera e l'altra mascherata. Come ci sono i contattisti che prima fanno le cose vere e poi di colpo incominciano a fare i falsi, perché? Perché si fanno corrompere dall'ego, dai soldi, dalle femmine o dai maschi e allora entra Lucifero e quelli vedono dischi volanti, ma è il Lucifero che li proietta nella loro mente, vedono cose che non ci sono. Si presenta loro con extraterrestre, non esiste la religione, esiste la scienza dello spirito. Poi Lucifero o Gesù si vestono indifferentemente o gli extraterrestri o da angelo se sei un religioso o da extraterrestre se sei uno scienziato, ma sono sempre le stesse entità. Questo dobbiamo comprendere, dobbiamo buttare nel cesso le religioni così come l'uomo le ha istituzionalizzate e capire che l'essenza dell'essere umano è la legge di natura che ci fa nascere, crescere, invecchiare e morire tutti quanti. Esiste solo la legge amici e siamo soggetti alla legge, 24 ore su 24 non sfuggiremo mai. Potremmo solo dire non me ne frega niente, per carità, libera scelta, ma ne paghi le conseguenze delle tue azioni. Ogni nostra azione comporta sempre, 24 ore su 24, una reazione uguale e contraria. Causa ed effetto. Questa è la legge che domina l'universo. Nelle civiltà extraterrestri non ci sono le banche, ma non ci sono nemmeno le religioni. E i governanti sono gli scienziati. Gli scienziati del mondo della materia, che è il mondo degli effetti, e del mondo delle cause, che è il mondo dello spirito. Dal mondo dello spirito, che è il regno di energia più elevato tenore, ha una tale frequenza da noi non misurabile. Discendono poi le leggi della fisica, dell'elettricità, della gravità, ma discendono da quel mondo, è un mondo vero, è un mondo di scienza, non è un mondo di credo. Questa è nella testa bacata di un'umanità demente, che è nelle mani dei produttori di denaro, di quattro scalzacani che ci vengono frottole. Mario Draghi, i Dupont, i Rothschild, D'Alema, Prodi, Renzi ha finito di svendere e di trasformare lo Stato in una società per azioni. Berlusconi, i Morgan, i Carnegie. Leig. Gli Sforza esistono ancora, i Farnese esistono ancora, Dostano non li sentiamo mai nominare. I veri potenti sono nascosti, perché il nemico, quando tu non sai che esiste, non lo potrai mai sconfiggere. Ma noi li sconfiggiamo con l'etica. Ma anche noi siamo blasfemi, soprattutto noi siamo blasfemi, che viviamo nell'ignavia, nella codardia e nel conformismo al sistema. Questa è la verità triste. Per questo Dio castigherà pesantemente il popolo. Perché non aveva nemmeno convenienza a fare la vita che fa. Una vita prostituita al sistema. Una non vita, perché nel momento che io faccio una vita solo perché ho bisogno di soldi, è una non vita, non è la mia vita. La tua vita, la nostra vita, è l'espressione della nostra creatività. Se noi viviamo una vita solo perché dobbiamo raccattare quattro soldi per campare, quella è una schiavitù. Io me la sono a caro prezzo, me la sono conquistata e oggi faccio esattamente la vita che voglio. Se voi mi date al contrario 50 milioni di euro, io non cambio vita, potenzio solo quella che sto facendo. Ma continuo a fare questa vita. perché so, come prova provata, che siamo dentro un processo storico di mutazione radicale di questo mondo. Accadrà, ci colpirà. Tutti quanti vedremo Gesù con i nostri occhi e ci chiede racconto. Egli che gli racconti? Che sei stato ingannato dagli illuminati? Gli racconti che sei stato ingannato dal Papa? Non è facile perché il Signore ti dirà, ma tu la sapevi che la legge era, ma il prossimo tuo come te stesso. Tu li hai visti i bambini morire di fame? Hai visto il mondo crepare sotto le guerre? Cosa hai fatto? Signore, i c***i miei. Scusate se mi esce la parolaccia. Noi abbiamo, amici, un grande potere, ma siamo vigliacchi. Dobbiamo ammetterlo, perché ammettere una colpa vuol dire trovare forse la risposta al cambiamento. Ma noi siamo vigliacchi, noi abbiamo paura. Poi cosa penserà il vicino? Cosa penserà mio marito? Cosa penserà mia moglie? Cosa penserà mio cugino? Il ginecologo? Il banchiere? Il prete? Il sindaco? E via discorrendo. Ma la mia vita ho diritto di viverla secondo ciò che vive nel mio cuore e nella mia mente. Non posso vivere come una prostituta che prostituisce la sua vita al banchiere piuttosto che al politico, peggio ancora la squadra del cuore. Noi abbiamo un grande potere, ma siamo comodi, siamo comodi. Noi siamo comodi e vili. Per questo non vogliamo cambiare e non vogliamo accettare che la causa della nostra sofferenza è nella nostra ignavia, nella nostra codardia, perché il giorno che l'accettiamo incomincieremo a cambiare e ci libereremo. È solo questione di tempo, perché Cristo e i Suoi angeli ci verranno ad aiutare. Con me l'hanno fatto. Se l'hanno fatto con me, che non conto niente, lo faranno anche con voi, che sicuramente valete più di me. Seconda domanda. Non è mio Sonia, tu oggi stai ascoltando il processo di un durissimo lavoro di oltre 30 anni, perché se voi dite solo tu lo puoi fare, è un comodo dito dietro il quale nascondervi. Lo potete fare anche voi. Io per questo sto lottando. Io per questo sto lottando. Per dire ai miei simili, quello che faccio io non è speciale. Lo potete fare anche voi, ma dovete avere il coraggio di alzare il culo dalla sedia e darvi da fare e rinunciare al vostro angolo di comfort, perché quella è la trappola dove morirete. Nello spirito poi, perché nella materia si muore tutti. Però io più che dirlo, poi come dicono a Napoli, i zi vostri, c'è il libero arbitrio, non può essere... Vivere la verità è un profondo, radicale atto d'amore verso te stesso, prima che verso i tuoi simili. Quindi se non vi amate, non ve lo posso dare io. Io mi amavo al punto da desiderare per me stesso e per gli altri una vita onorevole dove mi guardavo allo specchio senza vergogna. Cioè un po' la provo perché anch'io c'ho i miei peccati, però poca. Comunque il sedere lo muovo. Ho lasciato la mia terra, ho lasciato un comodo lavoro, ho lasciato i miei vecchi amici, me ne sono fatto degli altri per vivere la verità. Ho rischiato tanto, anche la pelle, perché non è facile. Ma Dio mi è sempre stato vicino e i suoi angeli, quando sono caduto, sono venuti, mi hanno preso per la camicia e ho detto dai, su, pacchetta sul sedere e mi hanno dato, vai avanti. E ci siamo.